Buonasera Ah madonna Ti stanco Oh Tanno massacrata Tanno storta Tanno storta Tanno storta Tanno storta Tanno storta Ma bravo Non c'è l'ha Sto dicendo bravo Ne pensi Ve ne aveva immaginato Lui ha detto pure lui al mister Il mister ha detto Sì sì no Questo lo so se vede Nel senso che stanno con bini Ma sono più preparati Che suonano Che giocano Dice però Lui comunque è dinamico Nel senso già È fisico È dinamico Cioè C'è la velocità Fisicamente È predisposto Oh E io voglio sapere il tuo feedback A parte la storta A parte la stanchezza Ti devi abituare È normale Non ce la fa manca parlare Quindi vuoi segnarti Eh Mazza lo vedo bello Un'ora e mezza Ti sei allenato È tanto eh Dai 5 Dai 5 e mezza Ai 7 Hai fatto amicizia Sì Sono simpatici Ma con chi gioca lui Caroma gioca A Roma piccoli Roma piccoli Ma che ne so Ma che giochi con Totti Con Totti piccolo Con chi giochi Ca Juve Ma che giochi La Lazio Ma magari Ragazze Buongiorno Oggi è sabato E io finalmente Sono riuscita A lavarmi i capelli Mi faccio la ceretta Ai baffi Perché Non so Tantissimi Però comunque C'ho da far Scaldo un pochino La striscia Non so Non so Cioè Sta cosa non ho mai capito Vendono Le strisce Depilatorie 16 strisce E 3 salviette Cioè Quindi Pio gnocolando Perché Nonostante siano le 11 e mezza Lei Ha già fame Perché praticamente Intanto Mi metto i miei capelli Perché praticamente Stamattina Non si è presa Il suo piberon di latte In quanto Lei Da quando è piccola Che Non riusciva a crescere Con il mio latte Quindi Fin da piccola Che abbiamo dovuto Dargli l'aggiunta Ma In pratica L'aggiunta Sarebbe stato il mio latte Perché lei prendeva più Il latte artificiale Che il mio E infatti Tuttora Lei fa due pasti Quindi pranzo e cena E poi Durante la giornata Quindi mattina Merenda E Prima di andare a letto Si fa il biberon Si beve il biberon E invece Durante la notte Ciuccia il mio seno E Stamattina Non si è svegliata Alle 8 Come ti consueto Per bere il latte Evidentemente Gli è bastato il mio E quindi adesso Ovviamente Ha fame prima Dunque Questo weekend È iniziato davvero male Perché Poverino Torian È da ieri sera Che sta sui compiti Perché le maestre Hanno deciso bene Di riempirlo nuovamente Perché ormai Sono Diversi mesi Che le maestre Stanno veramente Esagerando Con i compiti Sono davvero Talmente tanti Che Neanche io Riuscirei a farli Ma poi A prescindere da quello Anche se il bambino Si mettesse venerdì sera Sabato E tutta la domenica A farli Magari ci riuscirebbe pure Ma intanto C'è quel ragazzino Io mi ha la mano Seconda cosa Io penso che Tutta la settimana Il bambino Frequenta la scuola 8 ore al giorno In più Hanno anche i compiti Durante la settimana Quindi a parte Le 8 ore Hanno anche i compiti Da fare dopo scuola In più Questi bambini Avranno diritto Di divertirsi Di giocare Di fare sport Di avere degli hobby Insomma Il tempo purtroppo Non glielo lasciano Perché Li riempiono I compiti Vi dico solo Che Oggi che è sabato Ieri Apro il registro elettronico I compiti sono questi Per lunedì Sono Scrivere le tabelline Sul quaderno Da 0 a 10 E fin qua Si può fare Il problema è che Per ogni tabellina Quindi ad esempio La tabellina dell'1 Va scritta per 10 volte La somma totale Delle tabelline Che vanno scritte Sono 110 Cioè Sti bambini Devono scrivere 110 tabelline Sul quaderno In più In più Ci sono altri compiti Di italiano Quindi da completare Delle pagine In più Sempre per italiano Devono scrivere Il verbo Essere e avere Che è una coniugazione propria E scrivere sul quaderno Il verbo essere Modo indicativo Tutto il modo indicativo Poi tutto il modo congiuntivo Tutto il modo condizionale Dopodiché passare al verbo avere E fare la stessa identica cosa Quindi scrivere Modo indicativo Modo congiuntivo Modo condizionale E poi passare ad altri tre verbi Invece Con un'altra coniugazione Dico parlare Scrivere Giocare Che siano 15 tempi A verbo Quindi fate 15 tempi Per 5 volte Più Le operazioni di matematica Più I compiti di italiano Da completare sul quaderno Ovviamente ieri Ho scritto Il rappresentante Ho detto Scusami ma Non voglio disturbarti Alle 9 di pomeriggi sera Però Posso sapere Se ho capito male io O effettivamente I bambini devono fare Tutti questi compiti Lui mi ha detto Sì E infatti poi Ha scritto Alla maestra Lui si è lamentato Dicendo Non mi lamento Mai dei compiti Ma questa volta Avete un po' esagerato Perché i bambini Non hanno il tempo materiale Per poterli svolgere Entro lunedì Cioè non ce la farebbero mai Adesso si è messo lì Tra l'altro Visto che c'erano Tutti questi compiti Ieri Ho detto a Doria Dorian Metti di sotto Comincia a fare almeno Dallo 0 al 2 Stasera In modo tale Che ti dividi Per il weekend E poi stamattina Per fortuna Almeno questo La maestra di matematica Ha rettificato E ha detto No scrivete solo Dallo 0 al 10 Per una volta Dopo che Dorian Ieri sera Ha passato il tempo A scrivere 20 tabelline Perché ha fatto Tutta quella Ma piano Soraya Buongiorno Andiamo Cioè vi faccio vedere La direzione Nell'ascensore Vai Via 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 Go 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 Siamo usciti Finalmente Dico finalmente Perché sono le 5 Siamo stati Tutta la mattinata A fare I compiti Tutta la mattinata Ho sentito No maestra E a quanto Dice lei Ha dato tutti questi compiti Parliamo dei verbi Perché i bambini In quarta elementare Non sono abbastanza Preparati Sui verbi Non è secondo me Il metodo migliore Per farglielo imparare Perché i bambini Dopo un po' Si stancano Gli si stanca la mano E scrivono Tanto per scrivere Senza magari Concentrarsi Sul contenuto Il giorno Dorian è tornato a casa E sul diario La maestra Gli ha scritto Una nota di merito Un complimento Da far sapere al genitore Che il bambino Sapeva benissimo i verbi Quindi questa cosa Un po' Mi ha lasciato Destabilizzata Perché fino a una settimana fa Appunto Ho ricevuto Questo Un complimento scritto Che voleva far sapere Alla mamma E poi adesso Me lo riempi Di compiti Sui verbi Perché dici Che tutta la classe Se non li sa E ci rimango Mi ammo il test Velocemente Dimmi il Congiuntivo presente Del verbo avere Avere Imperfetto Ma io tutto presente Ah presente Eh Che io Che io abbia Dillo però Che io abbia Che tu abbia Ok dimmi il trapassato Del verbo essere Congiuntivo Essere Sì Che io Fossi stato Ok dimmi il trapassato Invece del verbo Avere Congiuntivo Che io Avessi Avuto Che tu avessi Bravo Dimmi il presente Del verbo avere Congiuntivo Avere Veloce Che io Abbia Avuto No presente Ah che io Abbia Che tu abbia Dimmi il condizionale Del verbo Credere Presente Secondo Io Crederei Tu crederei Ok Vabbè comunque La situazione È più o meno Questa Da stamattina Solo che mi fa Arrabbiare Perché Cioè Li sa Solo che Non A volte si blocca E non li dice Perché appunto Insicuro Pensa di sbagliare Insomma così Quindi questo è quanto Adesso stiamo andando Stiamo andando a Roma Est A fare una passeggiata Anche perché a casa Io è tutta la settimana Che sto a casa Con i bambini Che stanno male Quindi giusto Per fare una passeggiata Fare un giro Da Primark Grazie a tutti Grazie a tutti E Stitch Ti piace Stitch Come dici Stitch? Stitch Stitch Comunque Troppe cose carine Ci sono Troppe cose carine Ci sono Qui Io compri le due Questa grande Che l'amore Altro reparto Stitch Colori L'agenda C'è un po' di Primark In questo Stitch Mamma È Stitch È Stitch Ti piace Mamma Ti piace Mi piace Taki Taki Tata 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 Fatti riprende il cappello da sopra Mica mi fa riprendere il cappello da sopra un carino ci siamo fermati per cena siamo venuti da Old World West e poi c'è questa carta super speciale cioè in realtà è presto perché sono le 7.20 però calcolando che lei tra un pochino deve cenare posso chiederti maionese e ketchup? calcolando che lei tra un pochino deve cenare ci siamo fermati prima tanto comunque abbiamo tutti fame torno a casa sono le 19.50 abbiamo fatto record assoluto cioè c'eravamo noi e altri tre gatti a mangiare a quest'ora e però oggi è sabato in realtà noi il sabato mangiamo il sushi ma a me oggi non so perché non mi andava quindi gli ho detto perché non ci fermiamo da Old World West poi mi sono fermata e ho detto in realtà non possiamo perché alle 8 lei deve cenare e quindi erano le 7 ho detto senti ci avete fame? sì ci avevano tutti fame e quindi ci siamo fermati a cena a Old World West a quest'ora di fretta e furia bambini cioè non si può uscire che ti fanno veramente passare la voglia perché uno che va che corre a destra uno che corre a sinistra lei che piange nel passeggio e vuole venire in braccio Patrizio che se vuole andare a provare le cose giustamente ma io mica ce l'ho con te sto dicendo che uno magari vuole comprare ma io posso stare con il monopattino così secondo te? io non ho parole cioè è veramente veramente difficile infatti non andiamo mai al centro commerciale con i bimbi è veramente difficile ora tornati a casa vi faccio vedere quello che abbiamo comprato siamo andati da Alcott non ci andavamo da tantissimo in realtà a me non è che faccio a impazzire come negozio a Patrizio piace quindi in realtà siamo andati per lui poi alla fine mi sono comprata anch'io un paio di cose una cinta nera per Patrizio pagata 7,99 euro una t-shirt color marrone sabbia scuro così pagata 7,99 euro un giacchetto 29,99 questi qua primaverili beige non so se rende io queste cose le vedo adesso perché ero andata al reparto donna e quindi non ho visto nulla salone perché dovete sapere questa cosa di Patrizio questo l'ha pagato 19,99 anziché 26 sempre beige ovviamente Patrizio non è che acquista un po' a casaccio come faccio io cioè se trova una maglietta che gli piace se la compra no lui quando acquista acquista un outfit intero questa cosa è molto intelligente perché poi lui nell'armadio c'ha gli outfit già divisi invece io a volte sai me prendo un pantalone e una maglietta che non ci azzeccano niente l'una con l'altra magari invece lui avete visto come si è fatto il completo pantalone, maglia, giacchetto pantalone, maglia, giacchetto e cinta cioè mancavano solo le scarpe e abbiamo fatto l'outfit completo questa cosa è una cosa molto intelligente che ce l'ha da quando stiamo insieme è una nera pagate anch'io 7 euro sia nera così che bianca la maglia non si vedrà una mazza ve la faccio vedere così è semplice però mi piace perché io ho tutte i t-shirt un po' vecchiotte almeno ne ho una nuova siamo andati da Primark cioè ragazzi è vergognoso guardate la busta in che stato è io ho preso una cosa molto carina adesso ve la faccio vedere allora per Dorian c'erano delle magliettine basic 9-10 anni pagate 1 euro e 90 anziché non lo so credo 3 euro ho preso una fatta così semplice per la scuola così da battaglia e poi un'altra sempre pagata 1 euro e 90 anziché 2 euro e 50 quindi in realtà il prezzo base era già basso di suo e sono queste qua carine per Christian qualche magliettina perché erano a 4 euro e 50 ho preso taglia 4-5 anni perché a me piace più gli outfit dei bimbi mi piacciono un po' più comodi io intanto col cartellino della maglia allora io ho preso questa qui di Pluto Mickey Mouse e tutti i personaggi di Topolino di Sonic così Dorian mi piaceva molto la trama pagata 3 euro ed è fatta così guardate che carina tipo come si chiama sta trama no? tipo no come si chiamano i tatuaggi fatti così? questi no questo è un po' ricordate un po' mano di Fatima qualcosa che è un genere sì carino no origami come si chiama? vabbè non è non è Christian sempre pagata 4 euro e 50 guardate che carina visto che sta ritornando di modo Super Mario visto che sta uscendo il film Super Mario preso con 7 euro della Disney questa felpa fatta così con il coniglietto questa pagata ve l'ho detto e ho preso tagli a 9-12 mesi che almeno le stanno comode anzi per Christian queste però pagate 2 euro ho preso questa maglia qui per Dorian non ce n'era cioè non ce n'era veramente scelta infatti l'ho preso solamente questa qui nera e poi ma scusa ma a Dorian non gli abbiamo preso maglie no eh solo questa nera eh Patry a Dorian solo questa nera l'abbiamo preso a Dorian solo questa nera come che ne so ah no è ste due ah eccole eccole no è quelle due che abbiamo fatto vedete calzini per Christian con tutte trame differenti pagate 4 euro queste sono 8 paia credo 7 paia grande per Dorian pagate 7 euro ora gli ho preso Stitch sempre 9-12 mesi 7 euro guardate che carino stupendo trovo da Dio sono 100% super soft cotone 9-12 mesi e eh sono fatti così in realtà già ne ho altri però sono talmente comodi che li sfrutterò anche in primavera e ho scelto questa trama qui con gli animaletti quest'altra fatta così tipo begiolina e poi questa qui rosa con tutte le lettere capita prendetele perché sono veramente buone quelle di Primark Dorian 10 paia 3 euro e 50 vi dico la verità si bucano subito perché a Dorian si bucano spesso i calzini si vede che non sono buonissimi però per 3 euro e 50 10 paia ci fa parecchio e poi io mi sono comprata questa borsa qui 16 euro cioè io avrei voluto comprare di tutto perché c'era tutta la collezione di di Topolino c'era anche il trolley il beauty case c'era la valigia sarebbe il trolley c'era il borzone tipo da parto da palestra bellissimo c'era anche lo zainetto però io lo zainetto già ce l'ho però questa mi piaceva veramente tanto con questo portamonedine con le orecchie buongiorno ragazze libri alla mano perché stiamo andando da mia mamma e Dorian purtroppo ancora deve finire i compiti e oggi dovevano andare a Romics in realtà loro io non ci sarei potuto andare perché il trolley è troppo piccola e però causa compiti non purtroppo non è potuto andare perché andare a Romics significherebbe perdere una giornata intera e lui non può appunto per i troppi compiti che gli sono stati assegnati sono nera ieri sera ho pianto e perché chi segue amici mi capirà ieri è uscito Samu e non me l'aspettavo assolutamente perché per quanto mi riguarda era proprio il vincitore almeno della categoria ballo di amici era il mio preferito lo adoravo mi piaceva un sacco e ci sono rimasta malissimo perché non mi aspettavo la sua uscita solo la terza puntata cioè io lo vedevo già in finale e quindi mi ha veramente amareggiata questa cosa poi in più l'uscita con wax che io non apprezzo tantissimo mi è dispiaciuta ancora di più insomma veramente non me l'aspettavo quindi ieri veramente una valle di lacrime stamattina pure un po' di amarezza perché non ci sarà più ad amici non lo vedrò più ballare e vabbè detto questo vatti a vestire e noi andiamo pranzo di oggi lasagna a ragù soffia forte ecco la il pane arabo soffia pure tu buonissimo bravo ok vai aspetta vai soffia tieni ti ho paura che scotta tieni non scotta più tieni lasciala freddare lascia dillo papà lasciala freddare senti no non scotta più bene così ma non mangia da solo crisi ma come fai la dovremmo tagliare se fa un casino mangia guarda se fa un casino mangia da solo allora mia mamma sono 32 anni 32 anni che vive in Italia e dopo 32 anni mia mamma ancora dice idea idea perché idea eccomi idea idea vai di una frase se la saggi cambi idea Patrizio se la saggi cambia idea cambia idea non mi viene quello che dici cambi idea 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 volete sapere l'ultima Doria gli si è alzata la febbre a 38 non so per quale motivo stamattina stava benissimo e non ha voluto pranzare stranamente perché lui le lasagne di mia mamma gli piacciono tantissimo non ha mangiato e mi diceva che aveva mal di testa quindi gli ho detto vabbè non mangiare però almeno vai a fare i compiti perché come sapete abbiamo portato il libro non ce la faceva perché gli faceva amare la testa e quindi è andato insomma a riposare poi mia mamma si è accorta che era caldo e adesso gli ho dato la daghiperina speriamo lì si abbassi in più mia mamma mi ha dato quest'acqua qui che dice essere miracolosa si chiama fleio ed è praticamente un estratto di menta di foglia di menta applicata sulla testa sulle parti calde del corpo sulle caviglie sui polsi sul petto così sì per far abbassare la temperatura e quindi adesso che torniamo a casa gli faccio anche questa cosa e niente non so cioè mi vedo a piangere perché noi ci siamo chiusi due giorni a fare i compiti lui adesso sta male e speriamo che domani riesca ad andare a scuola perché se non dovesse riuscirci cioè praticamente noi ci siamo chiusi due giorni per portare a termine i compiti per lunedì ma comunque io se domani lui non va manderò le foto dei compiti su whatsapp alla maestra per fargli vedere che insomma i compiti sono stati svolti ecco sentirei una sensazione di freddo non ti manfresco questo è devastato guarda ha fatto pure la pittinatura da dragon ball alza 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 sull'addome copriti bene mi può dare per favore il tuo comando abbiamo recuperato il pranzo di oggi pranzo a letto alle sette come stai? ti è venuta la fame all'improvviso ti sta mangiando il pane di nonna e tutta la lasagna bagnetto soraya bagnetto fai tu bagnetto mamma fai il bagnetto bagnetto Ab snazzata Tadá! Capelli puliti Guardate che mean capelli bassi Guardate quanti sono lunghi adesso ci andiamo a vestire alle 9 di sera di domenica abbiamo portato a termine tutti quanti i compiti ora speriamo solamente che domani mattina Torian stia bene per poterli consegnare e anche perché domani ha la verifica dei verbi quindi insomma questo esercizio serviva proprio per farli allenare quindi speriamo bene al momento la febbre è scesa e lui sembra stare meglio però vediamo tutto quanto domani comunque ha finito vi faccio vedere vi faccio vedere tutto il lavoro di questo weekend che abbiamo terminato alle 9 di domenica una due tre quattro cinque sei sette e due 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 9 si due tanti me lo vedono e 10 quindi 20 si sono 20 praticamente ce l'abbiamo fatta a non non è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.